Isaac, sei lì? Rispondi, Isaac. Mio Dio, mi dispiace, Isaac, per la differenza di fuso. No, no, tutto ok, tutto ok. Come stai? Bene. Avevi ragione, Isaac. L'ishimura è fantastica. Sono fortunata a prestare servizio a bordo. Goditela finché dura. Sai che l'anno prossimo la manderanno in pensione. Isaac, grazie. Per cosa? Per avermi incoraggiata. Se non era per te, non sarei mai arrivata fin qui. Mi hai spinta a insistere. E non dimenticare che ho dovuto rinunciare a te per sei mesi. Forse stiamo uscendo dalla portata di ripetimento. Isaac. Isaac riesce a sentirmi la stanza al cerco di richiamati a me. Isaac. Isaac. Si è come lasciato andare per qualche minuto. Io credo mi stesse raccontando dei suoi incubi. Sì, riguardo la sua defunta fidanzata. Come si chiamava? Nicole. Non volevo che finisse così. Desideravo davvero rivederti. Ancora una volta. Ti amavo. Ti ho sempre amato. Ecco. Nicole Brennan. Ufficiale medico maggiore assegnata a una nave di classe Planet Cracker. L'Ishimura. OSG Ishimura. Già. Era parte di un'operazione su Aegis VII. Ma le comunicazioni si interruppero poco dopo l'atterraggio. Era parte della missione di riparazione. È partito come volontario, dico bene. Che cosa ha trovato a bordo, Isaac? Trovarono qualcosa. Cosa trovarono a bordo della nave? Il marchio. Ed è entrato in contatto con questo marchio. Le provocava allucinazioni. Cose che non voleva vedere. Mi parlava. Cosa diceva Isaac? Cosa le diceva Isaac? Isaac. Isaac. Gagli di oro. Isaac. Isaac. Riesci a sentirmi? Daina. Ho trovato Isaac Clark. Ripeto, l'ho trovato. Ottimo lavoro, Franco. Fa attenzione. È rimasto fuori un sacco di tempo. Oh, sì. Bene, bene. Piano, piano, piano. Ti tireremo fuori da questa camicia di forza. Dove... dove sono? So che ora ti senti confuso. Posso spiegare tutto, ma devi fidarti di me. Ascolta. Sei in grave. Brava. Da. Franco. Franco. Franco, che cos'è successo? Io? Isaac! Isaac Larko ti arriva a che si può fare! Kappa! Kappa! Ero! Sì! 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 a Parla il direttore Taito. Tutto il personale assegnato al progetto. Tutti i soggetti chiave devono essere eliminati e la struttura ripulita. Non è un'esercitazione. Qui Taito, chiudo. Non è un'esercitazione. L'occhio sembra andare molto meglio oggi, non credi? Fa male. Fa ancora male. Già, ti ho fissato un'altra seduta per domani. No, no, io non credo di essere pronto. Non posso fare un'altra seduta, no. Domattina presto. Ora parliamo di quello che hai visto oggi. Avanti, Strauss. Voglio solo aiutarti. Era nero. Nero e rosso con simboli. Simboli che mi sussurravano. Che cosa ti hanno sussurrato i simboli? Avanti, Strauss. Cosa? Era un frammento. Era un frammento, ma ha messo così tante cose. C'è tanta merda nella mia testa. Non c'è più spazio per niente. Non riesco a ricordarmela. Perché non ricordo il suo aspetto? I simboli, Strauss. Cosa ti hanno detto i simboli? Dicono che non è stata colpa mia. Non li ho uccisi io. Non si meritano questo. E neanch'io me lo merito. Bastardo. Rimettere Mr. Strauss in stasi. Portare la somministrazione a 30 milligrammi. E domani mattina faremo un'altra seduta. Il soggetto è Nolan Strauss. Seduta 158. Avete il suo dettaglio. Tutti i personali assegnati a cos'è. Tutti i dettagli hanno messo in minaccia e la struttura a riguardo. Chi sei tu? Paziente 4. Mi ricordo di te. Tideman ha detto che noi, i soggetti chiave, dobbiamo essere eliminati. Ascolta. Terminati. Chi per primo? Ascolta, mio amico. Mi importa? Ascoltami! Qualcosa? Possiamo uscire tutti da qui. Basta, basta che mi togli la camicia di forza. Nessuno uscirà vivo da qui. Nessuno. Non parlo. Non si può fuggire da ciò che ho fatto. Sta calmo, amico. Tranquillo. E il tuo ring è rosso. È rosso. C'è una ricarica e una torcia nell'armatetto. Dovresti prenderle. Forza, vai. Prendile. A me non serviranno più. Isaac, brucieremo tutti per ciò che ti abbiamo fatto. Clark? Isaac Clark, sei tu? Chi sei tu? Mi chiamo Raina. Quella che cerca di salvarti. Perché? Che succede? Sei fatto da una particolare forma di demenza, Isaac. O qualcosa che hai contratto su IG7. Come fai a saperlo? Come sai tutto questo? Questa malattia ti ucciderà. Ma se riuscissi a raggiungermi, potrei curarti, salvarti la vita. Perché dovrai fidarmi? Perché non sono io che ti sto sparando. Cazzo. Segui l'itinerario che ti invio. Ma se riuscissi a raggiungere. Non far, qui se riuscisse. Cazzo. No, 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 no. Che succede? No, no, no. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Evacuazione in atto! Evacuazione in atto! Controllare i click per ottenere l'uscita giudicina! Evacuazione in atto! Evacuazione in atto! Controllare i click per ottenere l'uscita giudicina! Evacuazione in atto! Evacuazione in atto! Controllare i click per ottenere l'uscita giudicina! Controllare i click per ottenere l'uscita giudicina! Controllare i click per ottenere l'uscita giudicina! No, no, no. Aiuto! Aiuto! Che cazzo stai facendo? Non ti prego! Vieni ad aiutarmi! Non ti prego! Non ti prego! Aiutami! Dio mio! Aiutami! Puoi darmi una cazza di mano? Dio mio! Calmati, ora ti tiro fuori da lì! Aiutami! È un laser per tessuti organici! Una lama al plasma! Mio Dio! Cazzo! Che cazzo stai facendo? Non mi metto! Aiuto! Ci provo! Aiuto! Ci provo! Ci provo! Aiuto! 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 isaac sono dai li dovrai smembrare per fermarli lo so ho fatto molta pratica tu cerca di rimanere intero grazie grazie Sì! Grazie a tutti. 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 Che cazzo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.